Stai zandando? Va bene, oggi ragazzi mi porterò su con me, mentre c'è il mio. Andiamo a vedere il mezzo di locomozione. Intanto ringraziamo gli sponsor per averci fornito il tutto. Ringraziamo la Kawasaki per la moto. Ringraziamo Tettino che stai filmando come un cane. Ringraziamo la Bridgestone per queste fantastiche gomme. Davanti e nuova, dietro no. La Breaking per il Prima Margherita, la Cervius per le plastiche e il nostro grandissimo amico Aurelio della Regina per la catena. Però si è sbagliato, ce l'ha dato nel KTM ma noi lo usiamo lo stesso. Ci piace Aurelio, sei un buono. Andiamo. Adesso mi strapperò la schiena per buttare su la moto. Non so quando hai la marmita che è nella concorrenza. Ok. Abbiamo messo, sentite il rumore, abbiamo messo la carta nei raggi come da Graziella. C'è la parola? Secondo me può anche spegnere, ci vediamo dopo. E' due settimane che c'era una tosta, stiamo sempre facendo il cazzo di aerosol. becco finocchio. Lo riprendo un po' sennò spacca i maroni. Allora. Allora. Grazie a tutti. 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 E' bello che l'acqua è calda, c'è un bel mare piatto. Facciamo un video, Tomai, facciamo vedere che siamo figli. Che siamo al mare. Sabato pomeriggio è pieno così. E noi che abbiamo paura di non trovare il parcheggio. E' bello.